Dunque 13 al via, MyGriff, Malerbigi, Nougat, Del Cigno, Ransom, Rasputin Font, Pietro il Grande, Procione Guasimo, seconda fila, Omar Dette, Padre Padrone Par, Painkiller va, rivale d'amore, Ray Charles, GSM, Mago, D'Alfa, senza ferie, Omar Dette, senza ferie anteriori, Painkiller va, la macchina che adesso è prossima a lanciare i concorrenti, lento come sempre, Padre, Padrone, Par, lo stacco in questo istante, c'è la rottura. Di Pietro il Grande, la rottura di Ransom, va davanti, Rasputin Font davanti a MyGriff, Rasputin al comando, MyGriff di rincalzo, poi Omar Dette che è filtrato bene dalla seconda fila e segue in terza posizione, intanto andiamo a vedere il passaggio ai primi 400 metri, a contatto dei primi anche Ray Charles, GSM, in risalita esterna Nougat Del Cigno, seguito da Mahler, Bigi e poi da rivale d'amore, 28 e mezzo ai primi 400, ha preso un po' la mano, Rasputin, adesso i 600, se ho preso bene, io ho 43. Nella sua scia MyGriff, davanti a Omar Dette, a largo viaggia Ray Charles, intanto il completamento dei primi 800 metri, in 59 scarso, a largo scoperto Nougat Del Cigno, Rasputin, MyGriff, Omar Dette, Ray Charles, a largo Nougat Del Cigno, adesso prova la terza ruota rivale d'amore, 1.13 e 6 il primo chilometro, Rasputin in vantaggio, è richiesto Nougat Del Cigno, chi viaggia sempre a ridosso di MyGriff, in corda Omar Dette, a largo provano a farsi avanti, Mahler, Bigi e soprattutto rivale d'amore in quarta ruota, mancano ora 300 metri al palo, Rasputin è sempre saldo battistrada, ma di strada ce n'è ancora, alle sue spalle MyGriff, poi Omar Dette, a largo Nougat Del Cigno, Mahler, Bigi, al ciglio esterno anche padre padrone bar, Rasputin attaccato di dentro da MyGriff, arrivano tutti molto lunghi, Rasputin stanco, interviene Ray Charles, all'interno Omar Dette, e l'arrivo è stretto fra Omar e Ray Charles, tutto è cambiato negli ultimi 150 metri, si è fatta sentire la stanchezza, Rasputin si è scatenato un po' troppo, di dentro vedete MyGriff, prova di dentro anche Omar Dette, non c'è spazio, allora Ferdinando Minopoli lo butta a largo, e insieme a Ray Charles in coppia si avventa sui due di testa, testa a testa nel finale fra Omar Dette e Ray Charles, sul palo i due sono vicinissimi al limite della parità, e poi per il terzo posto facciamo scorrere le immagini, eccoli qua, con a largo Rasputin e all'interno MyGriff, grazie a tutti,